5 emendamenti nuovi della Commissione, quindi crediamo che ci sia meno tempo fino alle 16.30. Inoltre vorremmo capire se è cambiata la dinamica dei tempi assegnati ai gruppi, perché sempre dallo speech ho sentito che è stato dato un terzo aggiuntivo a tutti i gruppi e non più come prima che c'era un minuto per ogni emendamento. Vorrei avere dei chiarimenti su questo punto. Allora, onorevole Gallo, un terzo è stato dato non ai gruppi ma al misto la componente PSI-PLI che ha esaurito il tempo e quindi, come da prassi, si è dato un terzo. Per quanto riguarda il termine per i sub-emendamenti, gli uffici hanno comunicato ai gruppi questo termine alle 3 meno 10, quindi è un termine che è riuscita comunque congruo. La relatrice chiedeva di intervenire su che cosa? Sull'articolo 17? Sì, sull'articolo 17 con una premessa, però Presidente, per spiegare... Ma lei interviene per dare i pareri a questo punto? Sì, per dare i pareri e per spiegare il perché dei pareri che darò. La premessa è questa. I colleghi che sono stati in commissione nel momento in cui stavamo nella sede referente su questo disegno di legge sanno che uno dei punti degli articoli più discussi è stato esattamente l'articolo 17 che appunto introduce il 5 per mille anche per le istituzioni scolastiche. Nel corso della discussione in commissione noi siamo riusciti ad affrontare alcuni problemi, ma altri sono rimasti aperti. In primo luogo il problema che avevamo risolto era stato quello di affermare il principio che il 5 per mille destinato alle istituzioni scolastiche non dovesse entrare in competizione con il 5 per mille.